Eurovo è il Becquery 2.0 Eurovo quest'anno a Sige presenta la riorganizzazione totale del segmento food service lanciamo due linee nuove di prodotto una è Eurovo Service Elite con un restyling della prima linea e una nuova linea che si chiama Elite con uova di allevamento a terra 100% italiane di categoria A presentiamo anche una linea nuova che si chiama Eurovo Service Becquery Innovation sono due prodotti unici sul mercato e innovativi con un altissimo livello di servizio e di qualità una è la Meringa Evolution e una è la Patabon sono due prodotti utilissimi in pasticceria per mousse e semi freddi principalmente ma vanno bene anche per la ristorazione grazie a tutti